un altro piccolo problemino ma che però anche un vantaggio sono le disparità cioè oggi c'è chi è connesso tanto e chi poco ed è importante pensarci a questo, tant'è che si sta occupando anche da sempre l'Italia, i vari governi, della connettività, della banda larga perché sarebbe bello lavorare da qua a volte per chi ovviamente a chi piace ma bisogna anche essere connessi, serve la banda e il digitale può essere, a proposito di disparità, può essere utile anche per alcune alcuni casi ad esempio è utile molto per via delle disabilità perché può partecipare in modo attivo alla società cosa che prima è un pochino meno perché oggi in fondo il corpo serve anche un pochino meno cioè si può anche interagire solo con alcuni piccoli movimenti o banalmente pensate alla realtà aumentata che ci permette di addirittura con pochi gessi o sempre di più anche con il pensiero di interagire con questi mezzi e di produrre quindi essere anche come dire parte viva, utile, operativa nella società, produttiva oltre a tutte le nuove tecnologie che sono straordinarie un malatto di Parkinson che prima faceva fatica a mangiare oggi con le forchette che si autobilanciano una piccola banalità che però non era possibile avere fino a qualche tempo fa riesce a fare così un amputato oggi addirittura con le protesi di un certo tipo riesce ad allacciarsi le scarpe cose impensabili sino a qualche tempo fa grazie